Posso dirti, capisco la domanda, le difficoltà, era chiaro che per noi è un giocatore importante, se lui fa queste performance qua, noi siamo in grande difficoltà, non è che abbiamo 42 giocatori, sicuramente da lui ci aspettiamo molto di più, da Green ci aspettiamo di più, più o meno da tutti, da Saccota non tira con queste medie qua, quindi abbiamo avuto anche qualche tiro discreto, però ripeto, i numeri sono assolutamente impietosi, l'aspetto tattico della partita secondo me non è stato quello principale oggi, perché la nostra performance è stata scadente.